A pochi chilometri di distanza, ad Agnano è iniziata da poco la giornata del Gran Premio Lotteria. All'Ippodromo cancelli aperti in mattinata per una kermesse che ormai va oltre l'Impica. Solidarietà con Unicef protagonista, la cifra della 69esima edizione, ma tutti gli occhi sono in queste ore per il ritorno del capitano. Varenni in passerella per il meritato bagno di folla dopo una carriera storica. Il resto è gara, con Urlo dei venti, Dante, Boco e Timone e K, tre favoriti, tre batterie, poi la finale. Grazie per la visione!